Dove aver definito il budget dite ok io con 30 euro cosa posso realizzare Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati qui di nuovo a utilizzare la lavagna per spiegarvi un metodo per la creazione di un budget che utilizzavo in passato Perché lo utilizzavo prima e non anche adesso perché adesso lo continuo a fare ma in maniera completamente diversa Perché tutto dipende anche dai soldi che avete a disposizione e anche dagli obiettivi che volete raggiungere Anche ad esempio da quanti membri siete all'interno di un team e così via Oggi infatti voglio rispondere a tutte quelle domande che magari le persone mi chiedono Ok io ho soldi per poter investire all'interno del mio videogioco quindi per creare gli ottimi videogiochi Ma non so come gestirli ma non so come spenderli e così via La prima cosa che bisogna fare è veramente molto importante è capire quali sono i siti per acquistare grafiche e musiche E vi ricordo infatti che ce ne sono di diversi Infatti ad esempio per le musiche possiamo andare su Audio Jungle che è il sito secondo me numero uno per acquistare sia sound effects che soundtrack Poi possiamo andare anche sempre su Graphic River o su ITC per acquistare le grafiche Ci sono tantissimi siti Se volete un video completo su tutti questi siti ovviamente fatemelo sapere con un commento qui sotto In descrizione comunque ne metterò un paio Una volta trovate questi siti però bisogna considerare anche una cosa che le grafiche e gli assets che compriamo lì non sono esclusivi Cioè quando noi li compriamo molto probabilmente qualcun altro le aveva comprate Quindi è molto probabile che nell'altra parte del mondo ci siano più giochi con lo stesso stile grafico nostro e le stesse grafiche Ma non è un problema perché se vi ricordate cosa dico spesso che per iniziare a creare videogiochi bisogna creare videogiochi completi fatti bene E l'importante adesso è fare portofoglio quindi far vedere alle persone quello che siamo capaci di fare Successivamente invece magari prenderete grafiche esclusive e quindi pagherete dei grafici per farvi fare delle grafiche Che è quello che faccio ultimamente io se compro degli assets su ITC lo faccio semplicemente fare dei progetti personali per testare Ma se devo andare sugli store o devo andare a vendere ad un publisher quello che preferisco fare è pagare molto di più Pagare un grafico però avere un progetto completamente personalizzato su misura e tutto questo varia appunto dal budget Oggi infatti voglio far vedere io come mi comportavo quando creavo un videogioco in passato come ad esempio The World of Bob E tutti gli altri giochi che trovate ovviamente sul mio sito Samuel e Shaka Questa è una cosa che consiglio comunque da fare specialmente all'inizio Facciamo un'ipotesi che noi vogliamo spendere non più di 30 euro per un nostro videogioco Che comunque 30 euro non sono niente tenendo conto che comunque per la creazione di questo videogioco possiamo stare anche un mese o poco più o poco meno Dopo aver definito la cifra massima che noi vogliamo spendere per creare un ottimo videogioco Dobbiamo cercare di capire cosa noi invece possiamo fare e cosa non Ad esempio se noi siamo dei grafici e utilizziamo Construct magari decido ok creo un piccolo videogioco Però le grafiche le faccio soltanto io quindi il budget può scendere quindi possiamo spendere di meno Oppure diciamo no invece no quelli 30 euro ok le grafiche me le faccio io però quei 30 euro le utilizzo tutte per le musiche O per la promozione o ad esempio per la creazione delle icone o delle immagini promozionali da mettere su Photoshop E così via tutto dipende ovviamente da quello che voi volete fare Immaginiamo però che noi scriviamo soltanto il codice con Construct Quindi grafiche e musiche non le sappiamo fare La prima cosa che bisogna fare è dire appunto che questi 30 euro devono essere destinati sia per l'acquisto delle grafiche E sia per l'acquisto delle musiche Una volta fatto questo bisogna anche dire che però facendo in questa maniera Noi abbiamo diviso 15 euro per le grafiche e 15 euro per le musiche Solitamente ad esempio quando realizzavo The World of Bob non è stato proprio così Io per realizzare quel videogioco ho speso circa 100 euro Per le musiche ho speso il 30-40% per le grafiche il 70-60% Quindi tutto dipende anche dalle fonti dove voi andate a prendere appunto questi assets Una volta fatto questo quindi bisogna considerare quanto si vuole spendere poi per le grafiche e per le musiche Immaginiamo che dato che attualmente il tutto è diviso per 50% quindi 15 euro qui e 15 euro qui Possiamo dire ok per le musiche spendo molto meno Perché ad esempio gli effetti sonori li posso creare con BFXR e altri tool Quindi i soldi che dedicherò per l'acquisto delle musiche sono soltanto per esempio per l'acquisto di una o due soundtrack Quindi ad esempio diciamo che su questi 30 euro 10 euro andrò a spendere soltanto di musiche e 20 euro soltanto invece per le grafiche Una volta fatto questo noi sappiamo benissimo che possiamo spendere 10 euro per le musiche e 20 euro per le grafiche E una volta fatto questo quindi cosa possiamo fare andare sul nostro computer creare un documento Excel utilizzando Google foglie di calcolo oppure anche Excel E mettersi lì su due tabelle tutti gli assets da comprare con 20 euro e tutti gli effetti sonori o musiche da prendere con un budget massimo di 10 euro Ripeto una cosa molto importante questo è un metodo un metodo che ho utilizzato per pochissimo tempo effettivamente Perché poi magari non mi piaceva molto perché in questa maniera avevo un budget fisso mentre preferisco essere magari molto più flessibile Io ad esempio magari questa cosa non la faccio più attualmente ma è molto importante perché perché potete capire in questo modo che non potete superare questa soglia E non potete neanche scendere magari datevi un minimo per scendere ad esempio 25 in questo modo dedicherete tutti i vostri soldi quindi 20 euro per le grafiche per acquistare delle ottime grafiche Quindi cosa potete fare ad esempio dopo aver definito il budget dite ok io con 30 euro cosa posso realizzare Quindi cosa fate ad esempio andate su itc graphic river e così via e vi segnate tutte le grafiche che vi interessano Ad esempio troviamo il primo personaggio bene io il primo personaggio che ho trovato in pixel art lo segno e cosa soltanto 3 euro Quindi vado a mettere sul mio excel che 3 euro sono destinati soltanto all'acquisto del personaggio Quindi non ho più a disposizione 20 euro ma ne avrò 17 perché 20 meno 3 fa 17 E continuiamo così compriamo lo sfondo compriamo l'HUD e vediamo quello che succede Nel momento in cui però scendiamo sotto la cifra cosa possiamo fare o decidere di aumentare il budget che lo sconsiglio Specialmente se siete all'inizio cercate di mantenere il più possibile potete fare anche questa cosa anche soltanto con 5 euro o soltanto con 10 euro E se scendiamo ad esempio in negativo con il budget dedicato alle grafiche possiamo decidere se invece aumentare il nostro budget per le grafiche Prendendo appunto dalle musiche o semplicemente possiamo metterci a fare le grafiche noi Quindi se ci sono alcune cose che potremmo fare noi le facciamo Questo è un piccolo metodo che consiglio a quelle persone che iniziano da poco a sviluppare i videogiochi Vi potete dare anche come piccolo budget ad esempio 10 euro Il classici 10 euro che vi dà la nonna ad esempio il sabato per comprarvi solitamente qui al sud funziona Ecco qua i soldi per un gelato non con 10 euro mi compro 10 gelati Però va bene lo stesso però cosa potete fare con quei 10 euro ad esempio Dite ok io questi 10 euro li spendo esclusivamente per le grafiche e creo un gioco esteticamente bellino Ma questo ad esempio è soltanto uno dei tantissimi metodi per fare un piccolo budget Perché? Perché qui ad esempio stiamo definendo i soldi prima ancora di iniziare a progettare il nostro videogioco Un'altra ipotesi quale potrebbe essere ad esempio immaginiamo che noi vogliamo creare un gioco come Flappy Bird però innovativo E abbiamo tutto qui dentro nella nostra mente Allora proprio iniziamo a scrivere tutto quello che noi abbiamo bisogno Qui ad esempio scriveremo che abbiamo bisogno del player Subito dopo abbiamo bisogno del bottone play Abbiamo bisogno anche dello sfondo dove però per lo sfondo si intendo ad esempio le nuvole che vanno in loop I palazzi che vanno anche questi in loop Abbiamo bisogno poi anche del terreno che va in loop Mi raccomando dovete essere qui bravi ed esperti nel definire tutti gli assets che avete Questo infatti ve lo consiglio di fare in una fase successiva Perché qui dovete fare veramente molta attenzione a tutto quello che avete bisogno Ad esempio il player ok ma il player deve essere animato oppure non deve essere animato Se è animato quanti frame deve avere? Ma deve avere anche l'animazione di quando muore o soltanto di quando sbatte ad esempio con i tubi Tutte queste cose sono veramente molto importanti perché una volta che noi scriviamo nel dettaglio tutto Quindi facciamo la nostra lista della spesa Possiamo vedere se contattare un grafico e farci fare queste grafiche Però il budget è molto più alto ma il gioco sarà molto più bello e anche esclusivo perché ce l'abbiamo soltanto noi Mentre se andiamo su internet ok il contro è che è difficile trovare grafiche che stanno bene tra di loro Ma il costo è minore Però questo metodo è molto interessante perché dopo aver fatto la lista della spesa Ci spostiamo su itc o anche tutti gli altri siti che ci sono a disposizione su internet E una volta fatto questo cosa facciamo? Iniziamo a scrivere appunto il player ci costa ad esempio 5 euro E lo sfondo ci costa 50 centesimi e così via Ma molto importante ad esempio se siete in gamba con photoshop e così via Se vedete che il bottone play magari non lo trovate o costa troppo lo facciamo noi Quindi ok ma c'è anche da considerare un'altra cosa Lo facciamo noi ma quanto tempo abbiamo a disposizione Tutte queste cose ovviamente ve le faccio vedere in futuro Se vi piace l'idea di vedere un video molto più approfondito su questo argomento Fatemelo assolutamente sapere con un commento qui sotto È un argomento molto importante e molto più grosso E con soli 10 minuti è veramente impossibile Utilizzare la lavagna è molto utile Quindi fatemi sapere se vi piace l'idea di vedere altri video con la lavagna La creazione di un budget è molto importante Ma noi qui abbiamo considerato soltanto i soldi Mentre quando si crea un budget bisogna considerare soldi, tempo e tantissime altre cose Quindi ragazzi fatemi assolutamente sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate E se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollicione in su Se volete vedere ogni giorno un video riguardo al mondo dello sviluppo di videogiochi Sapete benissimo che dovete cliccare il bottone iscriviti Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video E quindi ci vediamo domani Ciao